Ultima, Petrazzuolo, Napoli Magazine. Si dice spesso che la calma è la virtù dei forti e forse con l'arrivo di Spalletti abbiamo trovato questa novità perché il Napoli nei momenti di difficoltà, e mi riferisco ovviamente all'esordio di Napoli-Venezia, probabilmente avrebbe gettato tutto all'aria. Invece nella calma degli occhi di Luciano Spalletti dopo l'espulsione di Osimena, nella calma di Lorenzo Insigne che sbaglia il rigore e riparte a dire che non è successo nulla. C'è la grandezza di una squadra che davvero può ambire al vertice quest'anno? C'è la grandezza di una squadra, o perlomeno c'è l'inizio di un percorso di una squadra che vuole andare a fare cose importanti per se stessi e per la città, perché c'è una città che gli chiede questo. Lorenzo è uno di quelli che vuole fare cose diverse, che vuole aggiungere nuove giocate a quello che è il manuale del calcio. Cioè gli diventa naturale andare a prendere un calcio di rigore, andare a prendere la palla per ribattere un calcio di rigore dopo averne sbagliato uno. Di conseguenza il capitano è condannato a dover dare sempre notizie corrette ai compagni di squadra. E' condannato a dover avere dei comportamenti per distribuirli a tutti quei bambini che lo guardano o da casa o dallo stadio. Lui per ora sta facendo questo e di conseguenza la squadra poi ha ambizioni importanti perché il capitano ha mandato segnali importanti. Grazie a tutti!